Musica Buonasera e bentrovati da Prato 7, il nostro approfondimento settimanale sulle notizie che abbiamo dato nel corso delle nostre edizioni del telegiornale nella settimana che si è appena conclusa. Ripartiamo dal lunedì 16 settembre, abbiamo parlato dell'indice di criminalità pubblicato dal Sole 24 ore e Prato è entrata nella top 10. La nostra città è la settima provincia su 106, peggio di noi in Toscana, fa solo Firenze. Prato è al settimo posto in Italia per indice di criminalità con 12.756 denunce. Nel 2023 occupava la nonna posizione. È quanto emerge dal report pubblicato come ogni anno dal Sole 24 ore analizzando i dati del Viminale. La classifica prende in esame i delitti denunciati nel 2023 in rapporto alla popolazione residente. Al primo posto risulta Milano, seguita da Roma e Firenze, al settimo posto come detto Prato. Entrando nel dettaglio, a Prato nel 2023 le denunce sono state oltre 12.4887,9 ogni 100.000 abitanti. Alta l'incidenza di denunce del Comune Capoluogo sul resto della provincia che si attesta all'83%, il secondo tasso più alto d'Italia dietro soltanto a Trieste con l'87%. Nello specifico, il risultato peggiore alla voce è tentati omicidi con Prato seconda in Italia con 12 denunce. Terzo posto in aumento rispetto allo scorso anno per danneggiamenti con 2.411 denunce. Terzo posto anche alla voce rapine e 325 quelle denunciate lo scorso anno. Tra gli altri dati da segnalare, sedicesimo posto in crescita rispetto allo scorso anno per furti con 4.963 denunce totali. Tredicesimo posto in calo rispetto allo scorso anno con 22 denunce per contraffazione di marchi e prodotti industriali. Calano poi le denunce per violenze sessuali 32 che fanno scendere Prato al 26esimo posto, così come quelle per truffe e frodi informatiche 1.224 nel 2023. Allargando lo sguardo a livello nazionale tornano a salire i reati denunciati con una crescita del 3,8% rispetto al 2022 con un particolare aumento dei reati violenti, omicidi, percosse, lesioni e rapine. È la prima volta che si registra questo incremento dal 2013, escludendo il periodo della pandemia durante il quale anche la criminalità ha registrato una brusca frenata. Al vertice della classifica Milano, Roma e Firenze, mentre le province più sicure risultano essere quelle di Oristano, Potenza e Treviso. Il lunedì 16 settembre è stato anche il primo giorno di scuola per gli studenti della Toscana e quindi anche per quelli di Prato. Siamo andati al Gramsci Keynes, dove i ragazzi e le ragazze hanno inscenato una protesta per dire no al trasferimento al Rodarino. L'anno scolastico è iniziato con una protesta per alcuni studenti del Gramsci Keynes. A causa della mancanza di aule nell'istituto di Via Reggiana, gli alunni dell'indirizzo scientifico sono stati infatti spostati nei locali del Rodarino, nel polo di San Paolo. Una decisione comunicata soltanto pochi giorni fa ai diretti interessati. Ecco che stamani alunni e genitori, invece che entrare nei locali loro assegnati, si sono presentati davanti al Gramsci Keynes per chiedere al preside una soluzione alternativa. Siamo qui per essere ascoltati. Non abbiamo l'intento di entrare a scuola in Rodarino perché ci è stata comunicata questa notizia a una settimana dall'inizio della scuola e quindi non l'abbiamo accettata, non l'abbiamo presa bene perché noi siamo di quinta, ci sono i ragazzi che entrano in prima e appunto vorremmo protestare ma semplicemente far sentire la nostra presenza e vorremmo avere i pari diritti che hanno gli studenti che sono rimasti sotto lo stesso tetto della scuola. È un fatto anche a livello sociale perché siamo cinque classi, cinque classi di anni diversi perché una prima, una seconda, una terza, una quarta e una quinta, sì magari prima, seconda, qualche cosa possono avere in comune anche a livello, lo so, di amicizie. Noi ci ritroviamo un po' isolati. Noi andiamo in un prefabbricato che avrà passato tutti i test di sicurezza, ci può ospitare come numeri, non ci sono problemi, magari ci stiamo anche larghissimi, magari ci stiamo bene, però comunque è un edificio che non è una scuola. È un edificio effettivamente in cui facciamo lezione ma non ha le caratteristiche di una scuola. Preoccupazione per il trasferimento nel plesso scolastico del Rodarino è stata espressa anche dai genitori. Io sono una mamma di un bambino di terza e noi abbiamo scelto questa scuola per quello che offre la struttura con tutta la biblioteca e tutto quello che è connesso. Sbattuti laggiù da soli, isolati, a noi non ci va bene, neanche ai ragazzi. La protesta per i ragazzi del primo liceo è che tutte le nostre ragazze hanno scelto sì l'indirizzo ma molto anche l'istituto scolastico. E ora sentirsi dire all'ultima settimana che ci cambiano struttura per me è assolutamente inaccettabile. Io l'ho messa qui perché ha il fratello che fa scienze applicate, quindi all'ultimo momento mi hanno cambiato le carte in tavola. Una delle scelte era anche stata quella, cioè una delle motivazioni per cui siamo venuti qui. Li accompagnavo a scuola, poi dopo si arrangiavano e ora no. E la cosa brutta è stata dirlo una settimana prima. Da parte sua il preside Stefano Pollini ha fatto sapere che la decisione di spostare un indirizzo a Rodarino non è stata presa a cuor leggero e che sta lavorando per cercare di andare incontro alle esigenze dei ragazzi. Come spiegato ancora da Pollini, almeno un giorno a settimana a rotazione gli studenti andranno nella sede di Via Reggiana per poter usufruire dei laboratori e degli altri spazi presenti. Comprendo le difficoltà degli alunni, ha giunto il presidente della provincia Simone Calamai, ma se una dirigenza scolastica ha fatto una valutazione di questo tipo significa che questa è la miglior scelta per la didattica stessa. Parliamo adesso di basket perché la serie A sbarca su TV Prato. C'è un accordo tra la nostra emittente e Estra Pistoia Basket 2000 perché sul nostro canale, sul canale 75, trasmetteremo le dirette dalla sala stampa, le gare indifferite e la nuova trasmissione settimanale Red & White. TV Prato sarà la nuova TV ufficiale che supporterà a livello mediatico Estra Pistoia Basket 2000, l'unica squadra toscana militare in LBA, la massima serie di palacanestro. Una importante novità dal punto di vista della comunicazione e della diffusione delle notizie e delle iniziative che riguarderanno la stagione 2024-25 dei Biancorossi, ormai alle porte. TV Prato sarà il punto di riferimento per conoscere da vicino le novità, le curiosità e gli aggiornamenti in tempo reale di tutto ciò che ruota intorno a Estra Pistoia Basket. Su TV Prato ogni domenica al termine delle partite, sia in casa che in trasferta, sarà possibile seguire la diretta dalla sala stampa con le impressioni a caldo dei protagonisti. Durante l'arco della settimana spazio alle news nei TG del giorno e della sera. Il martedì alle ore 21 andranno in onda indifferite alle partite dell'Estra Pistoia Basket. Uno degli appuntamenti clusera il mercoledì alle 21 e 30 con Red & White, la trasmissione interamente dedicata a tutto il mondo a Estra Pistoia Basket, con interviste esclusive, commenti, rubriche e approfondimenti a cura del giornalista Giacomo Mazzanti. La prima puntata è in programma per mercoledì 2 ottobre all'indomani del debutto in campionato. Si apre una stagione nuova e molto importante per Estra Pistoia Basket con l'annuncio della partnership con TV Prato, che diventa la nuova official TV. Per la società e per il club è sicuramente una grande novità, grazie al ruolo fondamentale e importante svolto da Emanuele Loconte, in quanto facente parte della società che detiene il 100% della proprietà di TV Prato e main sponsor con la sua azienda del nostro club, per Pistoia Basket l'opportunità di farsi conoscere in maniera ancora più forte e importante, fuori dalla provincia di Pistoia, in una televisione importante a diffusione regionale, all'opportunità che abbiamo colto al volo e che riteniamo fondamentale per lo sviluppo del club e di tutte le sue iniziative in vista della prossima stagione che ormai sta per partire. L'accordo raggiunto tra Pistoia Basket e TV Prato rientra nell'ambito della più ampia collaborazione da me avviata da anni con la società cestistica, afferma l'imprenditore Emanuele Loconte, socio di Opefin alla società finanziaria, che fa capo alla diocesi di Prato e che detiene il 100% delle quote dell'emittente televisiva. La Loconte è di Le Costruzioni, già sponsor del Pistoia Basket da tre anni, da questa stagione è divenuta main sponsor, confermando la sua avvicinanza al mondo dello sport e della palacanestro in particolare. TV Prato è emittente di riferimento della piana Firenze-Prato-Pistoia con un bacino d'utenza regionale. Da sempre lo sport rappresenta un tassello importante del nostro palensesto, raggiunge Loconte e in particolare stiamo lavorando affinché TV Prato diventi sempre di più la casa del basket toscano. TV Prato conferma così la sua attenzione per l'universo sportivo locale regionale. Questa iniziativa si pone sicuramente nell'ambito del rilancio sul quale stiamo lavorando della nostra emittente, sulla quale per fortuna anche i numeri ci stanno dando ragione con una registrazione di un incremento degli ascolti molto significativo. Allargare questa prospettiva anche a territori limitrofi per noi è importante, non è in contraddizione ovviamente con la nostra visione di radicamento sul territorio, ma in qualche modo nella logica di radicamento di un ulteriore aspetto che noi da sempre curiamo, che è quello dello sport. Quindi aprire questa finestra sul basket per noi è fondamentale, sarà l'occasione per vedere in maniera ancora più significativa e importante il basket anche ad alti livelli, ma questo significherà anche dare una spinta al basket giocato a livelli magari inferiori e in particolar modo a tutto ciò che avviene in questa materia sul nostro territorio. È di martedì 17 settembre la notizia che da Piazza San Domenico prenderà il via il progetto per aumentare la sicurezza in centro storico. L'iniziativa è nata dal confronto con i residenti e commercianti della zona e si estenderà anche ad altre aree sensibili nel cuore della città. Garantire maggior sicurezza, decoro e controllo, ma anche un presidio sociale nelle zone più sensibili del centro storico è l'obiettivo del progetto promosso dal Comune di Prato in collaborazione con la Polizia Municipale, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e l'Associazione di Volontariato e Protezione Civile Oltre che ha preso il via da Piazza San Domenico. Ecco che da ieri sono iniziati i pattogliamenti dell'area per garantire una maggior sicurezza a tutela di chi ci vive, lavora e scoraggiare presenze indesiderate. Questo progetto parte da un percorso di ascolto degli abitanti, degli esercenti di Piazza San Domenico e inaugura un modello che noi vorremmo adottare, cioè quello di creare un modello di attenzione, controllo e ascolto che sia strumentale al contesto in cui andremo ad operare. In questo caso la necessità è quella di far sentire maggiormente il presidio e il controllo dell'amministrazione comunale all'interno della piazza, quindi sarà attivato un percorso di passaggi della Polizia Municipale molto più frequente, sarà chiesta la collaborazione delle associazioni che hanno stipulato un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale. La modalità è quella, insieme ribadisco a chi vive la piazza, di creare le condizioni per far sentire la nostra città più sicura, più adeguata. Nello specifico i pattugliamenti delle associazioni vengono realizzati tutti i giorni in due fasce orari dalle 15 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte, mentre la Polizia Municipale ha intensificato i passaggi. Inoltre in accordo con la Questura per alcuni controlli sarà utilizzata l'unità cinofila della Polizia Municipale. Nonostante nelle competenze del Comune non ci sia poi di fatto materialmente l'ordine pubblico e la sicurezza abbiamo deciso di dare un segnale perché San Domenico e non solo San Domenico, direi anche altre zone del centro storico hanno bisogno di un'attenzione maggiore dal punto di vista del decoro, del controllo e della rigenerazione urbana e culturale. San Domenico in questo senso rientra in un piano più complessivo dove grazie al sostegno delle associazioni di volontariato riusciremo a garantire un presidio sociale che di fatto consisterà nella presenza fisica di operatori all'interno della piazza che svolgeranno un ruolo non solo di deterrenza ma anche di raccordo fra l'unità operativa della Municipale e poi chiaramente le istituzioni. Le frazioni Cuore di Prato. Al via il progetto di TV Prato dedicato ai paesi e ai quartieri della città. Il viaggio della nostra emittente partirà il 30 settembre da Tobbiana con servizi CTG, approfondimenti e la messa prefestiva che andrà in onda dalla chiesa parrocchiale. La nuova stagione di TV Prato avrà una particolare attenzione alle frazioni della città. Dal 30 settembre la nostra emittente sarà presente per due settimane in ciascuna frazione per raccontare con immagini e interviste la vita dei paesi, i problemi e le esperienze positive dei singoli territori. Lo faremo attraverso servizi nel telegiornale ma anche con approfondimenti nel corso di Parliamoci Chiaro, il settimanale di attualità di TV Prato in onda il giovedì sera alle 21. La nostra emittente sarà presente nelle frazioni anche trasmettendo la messa prefestiva del sabato dalle parrocchie. Il viaggio comincerà lunedì 30 settembre da Tobbiana e proseguirà dal 14 di ottobre ai Ciliani e al Sacro Cuore. In programma ci saranno poi la Pietà, Grignano, Casale e Coiano soltanto per citare i primi appuntamenti. I cittadini possono contattare la nostra redazione tramite email scrivendo a redazionechiocciolatvprato.it per segnalare le particolarità delle frazioni, problemi quotidiani e storie da raccontare. Le frazioni Cuore di Prato è un progetto che mira a rinsaldare il legame e la presenza di TV Prato nei quartieri e nei paesi che da sempre sono parte integrante dell'identità e del tessuto urbanistico e sociale pratese e che rappresentano tuttora un elemento cardine della vita comunitaria cittadina. Mercoledì 18 settembre siamo tornati a parlare della crisi del distretto tessile che è stata testimoniata dall'osservatorio sul mercato del lavoro. Quindi cassa integrazione in aumento e diminuisce l'occupazione. La crisi del distretto perdura e lo testimoniano anche i dati dell'osservatorio sul mercato del lavoro stilato dal PIN a cadenza trimestrale. Il primo dato che balza all'occhio è quello della cassa integrazione guadagni, la CIG. A partire da aprile la crescita mensile delle ore autorizzate di CIG è stata in media del 373% rispetto all'anno precedente con picchi particolarmente negativi ad aprile e luglio. Il fortamento della CIG, soprattutto ad aprile, sembra essere collegato a una contrazione della produzione tessile che ha registrato un calo del 7,5% nel secondo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023 e della produzione manufatturiera in generale che ha subito una flessione del 7,9%. Un'ulteriore evidenza delle difficoltà congiunturali del comparto tessile è testimoniata dall'andamento dell'export. Dal confronto tra i dati relativi al secondo trimestre dell'anno in corso e il corrispondente periodo dell'anno precedente emerge infatti una contrazione dei flussi commerciali verso l'estero dei prodotti pari al 12,4%. Analogamente alla cassa integrazione, anche le ore legate ai fondi di solidarietà nel 2024 hanno registrato un significativo aumento rispetto all'anno precedente. Al 30 giugno 2024 nella provincia di Prato risultavano attive 29.218 imprese. Il confronto con i dati relativi alle rilevazioni precedenti indica che il numero delle imprese attive a fronte di una sostanziale stabilità registrata nel primo trimestre dell'anno è cresciuto di circa lo 0,2% nel secondo trimestre. Venendo all'occupazione, nei primi sei mesi del 2024 gli avviamenti sono aumentati del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tuttavia anche le cessazioni sono cresciute del 6,7%. Le dinamiche fra ovviamente cessazione hanno comportato effetti negativi sui saldi che tra il 2023 e il 2024, nei primi sei mesi, sono diminuiti del 28,2%. Il rallentamento dei saldi si accompagna a un'ingente diminuzione delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. E alle richieste del tavolo della moda per questa forte crisi che sta preoccupando il nostro distretto è arrivata una prima risposta del Governo, Cassa Integrazione ad hoc, anche per le piccole imprese. Dalle associazioni di categoria l'invito a fare presto. Buona la proposta del Governo di istituire un ammortizzatore sociale per le piccole e medie imprese del comparto della moda, ma c'è bisogno di fare presto. È lo scenario che è emerso dal vertice sulla crisi del settore che si è svolto al Ministero del Lavoro e a cui hanno partecipato le regioni. All'incontro la Toscana è stata rappresentata dall'assessora regionale Alessandra Nardini che ha rilevato la bontà dell'intenzione del Ministero di rendere possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari per i lavoratori delle imprese del comparto moda con più di 15 dipendenti. Per quanto riguarda invece i lavoratori del comparto con meno di 15 dipendenti, dal Roma si sono dichiarati disponibili ad individuare per un tempo limitato uno strumento straordinario di intervento ad hoc ancora da definire. I tecnici del Ministero hanno chiesto ai rappresentanti delle regioni di circoscrivere la possibile platea di beneficiari di tale strumento e i codici a teco dei comparti che dovrebbero essere oggetto di questo tipo di intervento. Come Regione Toscana siamo pronti a dettagliare ulteriormente i dati richiesti. Ci aspettiamo che venga definito lo strumento ad hoc di cui abbiamo parlato, che venga finanziato per una durata sufficiente a superare questo periodo di crisi e che tutto questo avvenga in tempi rapidi, ha detto l'assessora Alessandra Nardini, che non ha nascosto la propria delusione nel non aver trovato anche la Ministra Calderone al vertice. Stessa delusione esternata dalla sindaca di Prato e l'area Bugetti e dall'assessora Benedetta Squittieri, un'assenza che lascia perplessi, ha detto quest'ultima a proposito di Calderone. Risponde loro la deputata di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta. Bugetti e l'assessore Nardini hanno il dovere di conoscere la modalità con la quale si svolge un tavolo tecnico che per sua stessa definizione non comporta la presenza di un ministro, ma appunto di quei professionisti che hanno le competenze per portare avanti i lavori. Il Comune di Prato chiede più certezze sui tempi di erogazione di queste misure straordinarie di ammortizzatori sociali. Un invito a fare presto arriva anche da Moreno Vignolini, presidente nazionale della Federazione Moda di Confartigianato. Capisco la delusione nel non aver trovato il ministro, ma voglio cogliere come segnale positivo il fatto che i tecnici abbiano chiesto di calibrare la cassa integrazione sui numeri specifici, dice Vignolini. Non è il momento delle divisioni politiche, è necessario spingere tutti nella stessa direzione. La vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Fabio Romagnoli, invita a non dimenticare che accanto a queste misure fondamentali per i lavoratori la piattaforma del distretto contiene anche richieste per consentire alle imprese di mantenere i propri equilibri economico-finanziari, moratorie fiscali e creditizie, agevolazioni per gli investimenti, rivolti a rafforzare le posizioni di mercato, la competitività e l'efficienza aziendale. Finanziamenti a tasso zero o almeno calmerato sono fra le richieste contenute nella piattaforma. Sulla vicenda è intervenuta anche Erika Mazzetti, deputata di Forza Italia, che si è detta convinta che il governo possa fare di più per il settore moda, fermo restando che non c'era mai stata un'attenzione tale e continuativa verso un settore chiave per il made in Italy, dice Oggi siamo in una situazione emergenziale, ma è così perché negli anni passati la regione non ha favorito le imprese toscane della moda, con incentivi e programmazione, ha aggiunto Mazzetti, che conclude c'è chi lavora e c'è chi fa propaganda. Gli alluvionati di Galceti e Galcetello si sono riuniti in un comitato e chiedono interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, che già l'8 settembre scorso hanno messo a rischio le loro abitazioni. L'8 settembre scorso che cosa è successo qui? È successo al finimondo, perché comunque eravamo molto preoccupati. Con una pioggia che è durata due o tre ore, insomma alla fine tanta ma non eccessiva, il fiume è uscito poco più in su di qua, nel borgo di Figline, e anche qua è andato al limite, quindi eravamo tutti barricati in casa, pronti a scappare, a rintanarci nei piani superiori e se tutte le volte deve essere così, ci sentiamo insicuri, abbiamo paura per la vita. Dopo l'alluvione del 2 novembre 2023, la paura è tornata l'8 settembre scorso ed è rinfocolata oggi dalle immagini dell'Emilia e di altre zone dove gli effetti del cambiamento climatico sono tornati a farsi sentire. In via San Martino per Galceti preoccupa il Bardena, i lavori del Comune, che ha investito 600 mila euro per rifare il muretto di cinta a lungo torrente devastato dalla piena di novembre, sono partiti nei giorni scorsi e si sono fermati dopo quattro ore per un parere mancante della soprintendenza. Quando riprenderanno dovrebbero durare 90 giorni. Ma i residenti ritengono l'opera insufficiente e chiedono altri interventi al genio civile della regione toscana. Io vorrei capire il ruolo della regione, del genio civile in tutto questo. Se è lui che ha il compito di assicurare e diminuire il rischio idraulico, quali sono i progetti, cosa sta portando avanti, quali sono gli studi. Soprattutto la tempistica dei lavori che dovranno essere fatti perché noi vediamo un fiume che non è quello che era prima del disastro, è un fiume che è pieno di detriti. L'8 settembre poi l'acqua ha portato giù alcuni dei sacchi di contenimento che sostenevano la strada e proteggevano il crollo dell'argine e ora sono lì a ingombrare anche questi il letto stesso. Qui il letto praticamente si è alzato di 20-30 centimetri in tutti i detriti e sono venuti da filgini, per cui la portata della Bardena è inferiore rispetto a prima, molto inferiore. Ci sono degli alberi anche messi male? C'è degli alberi pericolanti che andrebbero potati meglio e tolti addirittura perché se no ostruiscono l'acqua. Cittadini preoccupati per nuovi allagamenti anche in via di Cantagallo, nei pressi della rotatoria con via 7 Marzo. In questo caso i residenti temono per il Vella, che scende da Vainella in mezzo ad argini precari. Anche qui i detriti portati dalla piena hanno alzato il letto del torrente e all'imbocco del tratto tombato la bascula di metallo riduce ulteriormente la portata dell'acqua. Proprio qui la cassa di espansione di Vainella è attesa dal 2010. Dopo 14 anni c'è il progetto esecutivo e sono partiti gli espropri, ma i costi sono lievitati e la regione toscana dovrà trovare altri 1,4 milioni di euro, oltre al 1.200.000 euro già accantonato per realizzare l'opera. Nel frattempo i cittadini si arrangiano come possono, costruiscono muretti e paratie a protezione delle loro case per evitare nuovi allagamenti. E c'è chi ancora non ha riparato i danni di 11 mesi fa. Siccome gli interventi pubblici non arrivano, siamo costretti a arrangiarsi da soli e creare delle barriere, anche leggere, ma che ci facciano dormire la notte, perché se no è un problema. Questa è la mia casa, cioè la mia è quella. Questa è di mio ucino che ora sono lì perché ho i muratori a ristrutturare la casa per i danni fatti dall'acqua. Giù tutto buttato via, praticamente tutto. L'auto, la moto, tutto da buttare via. Gli stori sono arrivati? Il storo è arrivato uno di 3.000, che non ho ripreso neanche per accomodare la Vespina o poco più. Si sono rivolti al genio civile della regione anche alcuni residenti di via Curzio Malaparte per chiedere di rivedere il tracciato della Bardena, che nel tratto vicino alle abitazioni compie due semicurve ed è già esondato a novembre. Io ho fatto due pecc al genio civile a Prato e alla sede di Firenze per spiegare la problematica particolare di questo punto specifico della Bardena chiedendo di venire a vedere per darci indicazioni su come possano fare dell'opera di mitigazione anche loro per venire a vedere quello che era successo. Però non abbiamo mai ricevuto risposte, nessun tipo. Hai subito danni ingenti a novembre scorso? Io ho subito danni per oltre 30.000 euro, sì. E questa settimana è stato inaugurato il nuovo ecocentro di Alia in via Paronese, una nuova area attrezzata dedicata al conferimento dei rifiuti esclusi dalla raccolta stradale e dal porta a porta. Un servizio più moderno e funzionale pensato per rispondere alle crescenti esigenze della comunità è quello fornito dal nuovo ecocentro di Alia appena inaugurato. La struttura, che va a sostituire il vecchio centro di raccolta, è situata in via Paronese, occupa una superficie di circa 4.000 metri quadrati ed è dedicata al conferimento dei rifiuti esclusi dalla raccolta stradale e dal porta a porta. L'ecocentro è aperto da lunedì al sabato dalle 7 alle 19 ed è stato realizzato grazie ad un investimento di Alia di circa un milione e mezzo di euro. Questo diventerà il principale ecocentro non soltanto per la città di Prato ma per l'area ed è eredita una storia importante perché l'ecocentro di Prato con le oltre 1.300 tonnellate raccolte ogni anno è probabilmente il primo ecocentro della Toscana per capacità attrattiva di rifiuti da raccolta differenziata. Quindi qui c'è una tradizione importante di tipo ambientale e a supporto del porta a porta che è presente in città e in parte dell'area perché questo ecocentro è aperto agli utenti pratesi ma anche agli altri utenti di Alia. L'ecocentro è suddiviso in tre zone, un parcheggio pubblico, un'area verde e il centro di raccolta vero e proprio un'area dotata di 10 cassoni scarrabili per il conferimento differenziato dei rifiuti costituita da una rampa di accesso, un piazzale e una rampa di discesa. Nell'area si trovano anche 8 attrezzature scarrabili per la gestione dei RAE e degli imballaggi. Nell'ecocentro possono essere conferiti rifiuti ingombranti, rifiuti elettronici, materiali riciclabili, rifiuti pericolosi e materiali di scarto da giardinaggio. Il servizio è facile e gratuito. All'ingresso dell'ecocentro un operatore di Alia registra il cittadino e verifica le caratteristiche dei rifiuti che questo vuole conferire individuandone la corretta categoria per dare esatta indicazione del cassone in cui deve essere depositato. È un centro che ha una maggiore capacità di accoglienza, quindi una maggior capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, quindi anche quelli che magari sono un po' più scettici avranno un servizio migliore. Non è sufficiente un solo centro, sarà necessario anche una seconda postazione. Ci stiamo lavorando e cercheremo entro la fine della legislatura di portare a termine anche questo secondo ecocentro che garantirà la totale adeguatezza in termini di quantitativi per il nostro territorio e per la nostra città. Ancora violenze e disordini all'interno del carcere della Dogaia. Due detenuti avrebbero aggredito un sovrintendente di polizia penitenziaria colpendolo con pugni e persino con un colpo di arma rudimentale, l'allarme dei sindacati di polizia penitenziaria. Ancora violenze e disordini all'interno del carcere della Dogaia di Prato. Due detenuti avrebbero aggredito un sovrintendente di polizia penitenziaria colpendolo con pugni, schiaffi e persino con un colpo di arma rudimentale sul braccio. È successo nel reparto di media sicurezza della casa circondariale. Protagonisti due detenuti posti nel regime di isolamento perché già autori in passato di gesti violenti. Ieri la loro rabbia è nuovamente esplosa e si è concentrata sul sovrintendente, bloccato e colpito ripetutamente. Solo l'intervento dei colleghi ha posto fine all'aggressione e l'agente è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118. A dare notizia dell'accaduto è Ivan Bindo della UIL Polizia Penitenziaria di Prato che ribadisce la difficile e duratura situazione che sta vivendo il carcere della Dogaia nel quale gli episodi di violenza nei confronti degli agenti di custodia si susseguono ormai da molto tempo. Un lavoro che oramai è trasformato in un bersaglio da chi fuori si macchia di reato e dentro gli istituti penitenziari continua a fare peggio, dice Bindo. Nel mese di agosto la critica situazione che sta vivendo il carcere della Dogaia è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica attraverso manifestazioni e richieste di intervento al governo. Il sindacato degli infermieri Nursind aveva denunciato le temperature roventi nella casa circondariale durante il periodo estivo, un disagio fortissimo che ha riguardato non solo i detenuti. Si sono registrati quattro suicidi negli ultimi otto mesi, ma anche il personale che opera all'interno della Dogaia. Sempre ad agosto la sindaca Elaria Bugetti aveva invitato il ministro Nordio a venire a Prato per trovare soluzioni alla drammatica situazione in cui si trova la Dogaia. Il centro-destra si unisca a noi perché su questi temi dobbiamo essere trasversali, ha detto la sindaca. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale Prato 7 torna tra una settimana. Io vi auguro una buona serata e anche un buon inizio settimana, visto che domani è lunedì. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.